Ciao e bentornati su Ciak e Azione, io sono Valerio Novara, come al solito vi ricordo che se non siete ancora iscritti al nostro canale YouTube potete iscrivervi per non perdervi tutte le nostre recensioni e vi consiglio di seguirci sulle nostre pagine Facebook e Instagram di Ciak e Azione per non perdervi tutte le novità che riguardano il mondo del cinema, le serie TV e i film. Oggi voglio parlarvi di una serie TV che è appena finita, è stato mandato in onda l'ultimo episodio e si intitola Dr. Death e è una serie TV che potete trovare su Disney Plus ma serve oltre all'abbonamento a Disney Plus quello a Starz che costa più o meno 3 euro al mese in più al vostro abbonamento a Disney Plus. Però ve la consiglio perché è fatta molto bene e oltre ad avere un cast d'eccezione è anche una storia vera quindi mi potrà interessare perché è una storia che riguarda veramente la vita di un neurochirurgo di Dallas interpretato da Joshua Jackson. Tra l'altro Joshua Jackson, il pesi di Dawson Creek, per me che sono cresciuto con Dawson Creek, rivederlo ma ha fatto un certo effetto in una parte che è veramente strepitosa nel senso che oltre a fare la parte del protagonista ma fa anche la parte del cattivo della storia perché poi tra poco vi dirò in breve la storia di questo neurochirurgo lo interpreta in maniera eccezionale secondo me e torna alla ribalta dopo essere stato un po' fuori dalle serie tv e dai film più importanti. Io ricordo che dopo Dawson Creek fece Fringe e poche altre cose a dire la verità ma sono contento che abbia saputo interpretare benissimo una personalità enigmatica come questo neurochirurgo di nome Christopher Dunge. Praticamente la serie che cosa fa attraversa tra il 2012 e il 2017 gli anni in cui questo neurochirurgo opera delle persone alla colonna vertebrale nella zona di negli ospedali del Texas quindi al Baylor di Dallas e durante queste operazioni anche operazioni semplici tra virgolette operazioni di routine lasciano meno mati o addirittura uccidono alcuni pazienti. La storia la storia vera la potete trovare facilmente su internet non starò qui a ripetervi chi era Christopher Dunge lo potete facilmente reperire la sua storia ma la serie attraversa benissimo poi gli anni principali di cui di cui che riguardano questo medico. Cosa da dove partire? 8 episodi un Joshua Jackson straordinario dicevamo e oltre a lui il cast nel cast c'è anche Christian Slater che abbiamo saputo apprezzare benissimo in Mr. Robot. Se ricordate Christian Slater che io adoro uscì un po' con Robin Hood principe dei ladri mi fece Will durante durante quel film con Kevin Costner da lì a Mr. Robot era un po' sparito dai radar l'ho ritrovato poi nel Mr. Robot e se l'avete visto fa una parte veramente straordinaria qui è veramente forte Christian Slater perché riesce a dare sempre quel pizzico di istinto è un altro medico dell'ospedale dove lavora anche il protagonista ed è uno tra i primi l'altro è un altro chirurgo interpretato da Alec Baldwin che purtroppo in questo periodo sta facendo i conti con la tragedia avvenuta sul set del suo ultimo film e Alec Baldwin che aveva invece lo scorso anno interpretato un neurochirurgo durante il corso di questa serie. Alec Baldwin e Christian Slater sono i primi che si accorgono che c'è qualcosa che non va durante le operazioni chirurgiche di questo dance e cominciano a indagare sul suo conto bravissimi bravissimi cominciano a parlare con i pazienti a vedere che alcuni pazienti sono rimasti sulla sedia a rotelle non camminano più anche per un semplice dolore al collo o a un mal di schiena dopo l'operazione con questo Christopher Dance vengono paralizzati oppure peggiorano la loro condizione di salute questo porta questi due medici a indagare a prendersi un avvocato perché comunque sia stiamo parlando della salute delle persone e della vita su 33, anzi su 38 pazienti, 33 effettivamente vengono o paralizzati o meno mati o in due casi uccisi quindi la serie che cosa fa? Mi è piaciuta l'alternanza anche attraverso il montaggio di quello che era all'inizio della carriera di questo medico che all'inizio aveva ottime referenze per operare in questi ospedali ma che dal 2012 poi alterna 2012 2017 in ogni puntata cioè ti fa vedere quello che succedeva all'interno della sala operatoria e vi dico la verità sono veramente scene forti perché lui molto presuntuoso Joshua Jackson interpreta benissimo anche questo personaggio che fa un po' lo stronzo no se vogliamo il cattivo di questa serie in questo carattere presuntuoso sono il migliore di tutti gli Stati Uniti sono il miglior neurochirurgo sono di qua sono di là però durante le operazioni qualcosa va storto per per dire vi faccio un esempio per un'operazione al collo o la spina dorsale che richiederebbe due ore lui ne piega quattro in alcuni casi c'è molta perdita di sangue gli anestesisti e comunque i suoi collaboratori ma anche gli infermieri gli dicono ma dottore scusi il paziente sta peggiorando e lui reagisce in malo modo e c'è sempre questa cosa che tende a dare la colpa agli altri tutti quelli che stanno in sala operatoria con lui dopodiché si assiste durante queste operazioni io sono rimasto veramente scioccato perché poi se uno pensa che è una storia vera lì veramente disigela il sangue vi dico casi di spugne lasciati all'interno del del muscolo delle persone ricuscite con frammenti d'osso nel nella spina dorsale frammenti d'osso rimossi muscoli rimossi e insomma non starò a spoiler arbi tutte le vicissitudini che accadono a questo medico durante queste operazioni che sulla carta dovrebbero essere semplicissime o perlomeno nella maggior parte dei casi dovrebbero essere semplicissime per qualsiasi dottore insomma dicevamo questo porta i due medici ma anche i pazienti i pazienti meno mati a rivolgersi a un avvocato e quindi a testimoniare nelle nelle ultime puntate si arriva quindi al 2017 quando c'è stato il processo perché a un certo punto doveva essere fermato questo medico in qualche modo doveva essere fermato gli viene tolta quindi la possibilità di continuare a lavorare come medico e il processo loro si affidano a una bravissima un bravissimo avvocato che fa una ringa poi nell'episodio finale che è fantastica e si affidano a questo avvocato che comunque grazie alle testimonianze dei pazienti deve cercare di impedire per sempre a questo medico di continuare a far del male alle persone l'accusa quindi chiama a raccolta tutte le persone i pazienti meno mati e purtroppo anche i parenti di quelli uccisi a testimoniare contro il dottore e dall'altra parte lui che ha sempre mentito nel senso che ha sempre negato responsabilità non ha mai chiesto scusa non ha mai chiesto perdone questa cosa si evince anche dalle espressioni di joshua jackson che fa veramente questo personaggio in un modo molto naturale mi è piaciuto molto molto naturale e lì anche il trucco e l'acconciatura secondo me svolgono una parte fondamentale e credo che lo vedremo ai golden globe perlomeno una candidatura a joshua jackson per questa per questa parte io gliela darei perché poi col passare degli anni lo ingrassano molto effettivamente poi se andate a vedervi le foto del medico rispetto agli inizi della sua catiera lui in prigione comincia a ingrassare diventa sempre più irascibile finché per fortuna alla fine del processo l'accusa riesce a dimostrare che lui era consapevole di quello che faceva che faceva del male alle persone consapevolmente un pazzo un pazzo quindi io quello che vi consiglio è di vederlo con spirito critico e obiettivo e anche se uno volesse non riuscirebbe a empatizzare con il protagonista perché io mi sono chiesto perché questo fa queste cose poi ti senti male vedendo certe scene durante le operazioni con questi con questa attrezzatura questo bisturi come se fosse un dilettante allo sbaraglio e alla fine dell'ultima puntata titoli di coda spiegano anche perfettamente che gli errori medici sono la terza causa di morte negli stati uniti dopo il tumore e l'infarto e diciamo le malattie cardiache quindi vi consiglio di vederla è fatta molto bene dr death su disney plus e noi invece ci vediamo alla prossima recensione ciao a tutti